Siamo qui a Mercatello sul Metauro e alle mie spalle vedete il cantiere che abbiamo consegnato qualche giorno fa per l'apertura della Galleria della Guinza sulla Fano Grosseto. Con quale scopo? Quello di fare chiarezza rispetto a delle notizie diffuse a Darte qualche ora fa sul fatto che il cantiere non sarebbe stato aperto, che il cantiere invece si fosse interrotto, che i tecnici di Anas e il commissario avessero fatto nei giorni scorsi solo una passerella per poi non aprire e non avviare i lavori sulla Fano Grosseto. Così non è. Il compito della politica è quello di fare chiarezza in un rapporto diretto con i cittadini cancellando da argomenti importanti come quello delle infrastrutture strumentalizzazioni che non fanno bene a nessuno. Perché? E lo dico da marchigiano. A volte da marchigiani, noi marchigiani siamo nemici di noi stessi. Allora io invito tutti a pensarla come la pensava un marchigiano illustre, Giacomo Leopardi, il quale ci invitava a guardare oltre la siepe del nostro giardino e guardare dove? Verso l'infinito. Per noi l'infinito è la realizzazione di infrastrutture finalmente moderne e sicure per la nostra regione. La Fano Grosseto deve essere il nostro fiore all'occhiello. Dobbiamo sbloccare questa opera che svilupperà l'economia del nostro territorio e permetterà ai nostri giovani di lavorare laddove sono nati.